Allora, ci troviamo in l'arco della fragola rossa. Guardate le condizioni del giardino. Con tutto, tutta l'immondizia a terra. Non ho visto anche le segnalazioni che noi abbiamo fatto al comune. Il comune non viene mai a pulire. Guardate, come vedete c'è di tutto. Guardate di qua. Guardate, rifiuti abbandonati.